Grazie a tutti. No, 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 no. Come cazzo dovrei fare? Che cazzo dovrei fare? Eh, va bene. Mi metto l'impreciso quando... Eh, io cosa dovrei fare? Sì, va bene. Muori. Tanto muori sempre, mi vuoi. Non è che ti fambi molto. Oh, come l'ho superato! Il missile è radiocomandato. È una grande puttanata. Scusami, eh. Io come dovrei superarlo sto livello? Scusami, ma se io tocco il coso, muoio? No. Sì, va bene. Il mutuo esco è che volevo pittare, ma no. Voglio ancora vedere che c'è. Un modo di superare questo livello. Non so come debba fare. Non vedo chiavi da prendere. Sicuramente il suo livello è baggato, eh. Boh, io esco perché... Non esco per quitter, ma perché non capisco come si faccia sto livello? Get up nude. Non so che sia. Aspettate. Ok, ragazze. Perché finisce che è solo una grande botta di culo. E allora... No! Avete visto? Me l'ho ciccato. Si va bene. Nooo, è da fatti questo. Io ho esatto, possiamo prendere la diala in fine. Non si può fare. Vabbè, a quel punto gli mostro i livelli rimanenti e quinto, perché non ce la fa davvero più. Wrath invece... Non avevamo già trovato uno, Wrath. Ok, ragazzi. Il testo sembra abbastanza semplice. Come cazzo fa sopello? Allora... Ho il testo di saltare nel momento preciso in cui non devo. Tua madre! Sì, vabbè, io ci salto addosso, è fin troppo odio. Allora, aspettate. Ok, fermi, 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 fermi. E ora? Nooo, devono essere queste a distruggerli. Oh, cazzo di buddha! Cazzo! Nooo, non lo farà... Cazzo! Era l'unico posto sicuro che non pensavo non lo fosse, eh. Allora... Perché in me era un camperato ripensando che fosse un posto sicuro. Invece no, era tutt'altro. Cioè, era l'unico posto sicuro... Dove non dovevo andare. Allora... Allora, in questo livello è un mix. Allora, l'altraità la posso scurare. Questi qui, vado a fargli sparare un po' la cazzo. Sì, proprio cazzo. Oh, oh, no, no, no! Sparate qua, sparate qua, coglioni! Sì, vabbè, che cazzo. Il cioccolato l'hanno fatte perfette alla prima, oppure non ce la farete mai più, eh. È impossibile, cazzo! No, me la cazzo! Sì, vabbè, che cazzo non ce la farò mai più! Oh, attenzione! Io invece ce l'ho fatta! Eh? No! Non ce la farò mai, eh! Oh! 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 Che sono! No! No! Ma che cazzo! No! Sì, vabbè, non si può fare, ragazzi, è troppo malazzo questo livello! Sì, vabbè, che cazzo mi manda automaticamente alla morte! Moscone, perché non ti fotti? E i Moscone non sono più un problema! Oh! No, ragazzi, ho visto il livello continuo ed è una cosa abominevolmente infinita! Sì, vabbè, i Moscone basta tirare come tanto possibile, ragazzi, eh! Allora, fermi! No! Come? Come mi hanno preso? Allora! Non li sono mosso, è stata una colpa mia, ragazzi! Oh! Ma che cazzo! Allora, è un livello che va fatto una osa abominevolmente precisa, perché se no è impossibile! Meat Boy, non riesce a centrare il buco, vero, eh! Tanto lo so, si è abituato a non centrare i buchi! Però i buchi, i buchi, le persone pro ce ne diventano tutte incontro, eh! La mia anima, la mia anima mi ha completamente abbandonato, ragazzi, ah, è vero, io non ho più un'anima! Allora, ragazzi, finché il livello è partibile, vado avanti, altrimenti vaffanculo, eh! Mi sa che quegli scheletri che ci sono nel background, e vabbè, ho fatto l'anzata, ora muoio, eh! Oh, attenzione! Sì, vabbè, vaffanculo, la mosca mi segue! Se quelle mosche stessero a mangiare la merda, come tutte le altre mosche normali! Eppure io di quella parte peggiore l'avevo raggiunta, eh! Di una parte peggiore sono questo e i missili! Cioè, le mosche e la stengato a intravisto dovrebbero essere la parte più facile! Ecco! Questo! Io direi che questa è una delle parti più facili, eh! Secondo me dovevo ritornare indietro, sapete? Che da aver capito ho messi su per i non missili! Vai! Tutto tranquillo! Cioè, tranquillo ti fa perdire! Ok, fermo! Fermo! Stop! Oh, con quale non me botta di culo! Ok, ragazzi! No! 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 Cazzo troia in culo! No! No! Avevo fatto un'auto veramente impossibile! Avevo la troia rotta davanti! Allora... No! 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 Dio! Ci hai provato, eh! No! Non dovevo! Ho saltato! Non dovevo! Ho preso per sbaglio il tasto per saltare! Grazie a tutti Grazie a tutti Riproviamo Non è capito come No, no, questo Ho detto ok Vabbè ragazzi Il gioco è cattivo The Kingdom Kingdom, scusate Non so cosa pronuncia sta merda Tanto visto il gioco è una merda Lo gioco a merda Oh, andate giù Alla prima Poi abbiamo Ci rimane a fare Che Quanto vuoi? 15 6 Altri 4 Che bello No, Robbio Era un gioco attivo Ah no, era questo qui In cui salto Era impossibile Perché Questo affare È impossibile A controllare Voi ci posso Posso riprovarci E poi Chiudo un po' il video Però Non so come si possa fare Allora, aspetta Dai, voglio provare Un attimo A fare Vaffanculo Oh No No Che aspettate No Ma c'è anche di qua Allora, vaffanculo Io me ne esco Ma non si potrà fare mai A questo livello King Cadion Ah, è questo Ultimo tentativo E poi Quinto, ragazzi Ancora 5 tentativi 4 3 2 1 Basta Me ne vado via, ragazzi 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 6 7